televisione bova belve battuta fulminante dell'ex suocera bernardini de pace l'ex suocera celebre avvocato divorzista risponde in modo tagliente alle parole rilasciate dal suo ex genero a belve by v m pubblicato su 4 ottobre 2023 anna bernardini de pace il più celebre avvocato divorzista d'italia ha commentato quanto detto dal suo ex genero raul bova a belve il divo incalzato da francesca fagnani è tornato al tempo della separazione dalla moglie chiara giordano a cui è seguita la relazione con rossio munoz morales sua attuale compagna fagnani diabolica con bova le domande su anna bernardini de pace lei quando si è fidanzato con la figlia lo aveva capito o è andato contro il suo destino così ha domandato la diabolica fagnani riferendosi naturalmente alla fama dell'ex suocera osso durissimo in tribunale beh quelle sono le cose impulsive di cui parlavo non ragioni non rifletti e lo fai perché in quel momento ami la replica dell'attore ovviamente la giornalista non ha mollato la presa immagino che se anche avesse riflettuto si sarebbe sposato lo stesso bova ha annuito fagnani non si è lasciata sfuggire l'occasione di parlare della lettera durissima che bernardini de pace scrisse quando fini il matrimonio del divo con sua figlia la lettera dell'ex suocera di bova la missiva in questione fu pubblicata dal giornale il titolo fu assai pesante caro genero degenerato vai e non tornare giusto per capire di che toni si sta parlando ecco un passaggio della lettera non hai né fegato né cuore caro genero o de genero per meglio dire la tua forza a letto dura il tempo di uno spot sei un uomo a breve termine di conservazione scaduto a proposito di quello scritto bova ha detto sono cose che fanno le persone che hanno un grosso dolore cercano di sfogare con la rabbia pensando che il dolore poi si attenui ebbene come ha preso tali esternazioni l'ex suocera bene ma non benissimo infatti lo ha fulminato con una battuta intervenuta nella trasmissione radiofonica di rai radio 1 un giorno da pecora l'avvocato in riferimento all'ex genero e alla sua intervista a belve ha chiosato me lo ricordavo più allegro e vivace ieri sera mi è sembrato troppo buono